Benvenuti alla seconda edizione della rassegna stampa della giornata. Chiedo alla regia di Luigi Cano di eliminare il ritorno dello studio regia dall'interfono e eccoci qua insieme per parlarvi di quello che succede nel mondo e di quello che leggiamo sui quotidiani edicola questa mattina. Intanto iniziamo proprio dal santo del giorno, oggi la chiesa ricorda e festeggia Santa Gertrude la Grande Vergine che nacque ad Eisben nella Sassonia da illustre famiglia e poi pensate che già all'età di 5 anni fu posta nel monastero di Alftà. Quindi è chiaro che si trattano di altre epoche molto distanti da quella attuale. Poi Santa Margherita di Scozia, Regina e Vedova, Santa Agnese di Assisi, Santa Edmondo Ricci, Santo Otmaro di Sangallo, Santa Euccherio di Lion, San Fidenzio, Santi Agostino e Felicita e Beato Edoardo Martiri. Poi il Beato Gherardo di Serro dei Conti e ancora Santi Lusore e Leo Caudio, Beato Simeone. Auguri a tutti coloro che oggi vesteggiano la loro Santa Patrona e naturalmente coloro che oggi ricordano un lieto avvenimento, un anniversario o la loro nascita, quindi il compleanno. Questa giornata del 16 di novembre abbiamo la temperatura altissima, non per quanto riguarda il meteo chiaramente, ma per quanto riguarda invece il clima internazionale. Temperatura altissima salita dopo che un missile o qualcosa del genere ha colpito un piccolo villaggio della Polonia e purtroppo ci sono anche due morti. Adesso ci sono in corso indagini per capire che cosa è successo, questo missile di fabbricazione russa, i russi naturalmente dicono che non siamo stati noi a lanciarlo, ma è una provocazione. La verità potrebbe stare nel mezzo, potrebbe essere un incidente di guerra, diciamo che il missile in realtà è stato lanciato dalla Russia ma è intercettato dalla contraerea ucraina che ha deviato il corso di questo missile, la rotta, la traiettoria ed è finito su questo villaggio. Ormai questa è un po' l'ipotesi più caldeggiata da tutti, però sono in corso le indagini e tutto sommato sia la Nato che la Russia e l'Ucraina hanno preso tempo in queste ore per capire davvero che cosa è successo. Chiaramente se non fosse così sarebbe una inevitabile escalation, si andrebbe davvero ad uno scontro mondiale cioè tra la Nato e la Russia, cosa che sarebbe veramente l'inizio della fine, non della guerra ma del mondo. Adesso andiamo invece a parlare di cose un pochino più tranquille, anche se poi ci ritorneremo chiaramente su questo argomento perché comunque la notizia avvenuta ieri sera è già sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo quindi questa mattina è la notizia principale che apre davvero le prime pagine di ogni quotidiano. Ma andiamo invece a vedere le vere temperature, quelle che si riscontrano nel nostro ambiente, nel nostro suolo e temperature che durante la notte complice anche la perturbazione che è passata, quindi la copertura nuvolosa non sono scese di moltissimo. Infatti abbiamo una minima di 3,9 gradi sul Monte Bue che è stata registrata in questo momento quindi è chiaro che le temperature durante la notte sono state un pochino più alte quindi si stanno abbassando, questa è l'indicazione che ci dà questa stazione meteorologica 3,9 Monte Bue invece l'abbiamo visto sotto zero un paio di giorni fa 5,8 gradi Prato della Cipolla e 7,7 Rocca Davide sono tutto sommato dei valori nuovamente un po' altini per la stagione perché in questa stagione già in queste quote dovremo andare sotto lo zero durante la notte poi 5,8 a Rezzoglio Basso, 5,6 a Cabane di Rezzoglio scendendo in Valle Sturla siamo sotto i 10 gradi ma di poco a Casali di Borzonasca 9,7, 11,6 quindi ben sopra i 10 gradi a Belpiano siamo tornati sopra i 10 gradi anche a San Sirofoce, Mezzanego e poi ancora in Val Graveglia con 12,8 gradi quindi temperature decisamente un po' più alte rispetto a quelle che abbiamo visto nei giorni e nelle notti precedenti Val Fontana Buona invece con la temperatura di Pian dei Preti di Tribogna 10 gradi e di Villa Oneto 12,5 gradi non è pervenuta la temperatura di Favale di Malvaro e di Pezzonasca di Moconesi andiamo sulla riviera dove le temperature sono schizzate ben oltre i 10 gradi anche durante la notte non sono scese assolutamente sono scese sui 13,14 gradi 14 addirittura è 6 a Santa Margherita Ligure 14,4 a Rapallo anzi 13,9 a Chiavari nelle zone interne 12,7 12,7 gradi al porto di Lavagna e 15,6 gradi alla secca di Moneglia quindi queste sono temperature che ci riportano nuovamente al di sopra della media stagione del periodo con 13,9 gradi la minima di Genova Nervi mentre nel centro genovese per esempio nella zona di San Fruttuoso abbiamo registrato 9,1 gradi e invece nella zona di Cornigliano 9,6 gradi a La Spezia in centro 13,1 gradi a Savona leggermente minore la temperatura 11,2 gradi ad Imperia 12,4 gradi e a 20 miglia 13,9 gradi allora che cosa sta succedendo? è passata questa parte più intensa della perturbazione che ci è interessato ieri una perturbazione davvero autunnale ma nel migliore dei termini cioè quella pioggia che una volta c'era ed era normale che ci fosse a novembre quindi pioggia continua piuttosto monotona diciamo da questo punto di vista però senza scrosci particolari a parte qualcosina durante la seconda parte della serata però veramente nulla a che vedere con le bombe d'acqua con tutte queste manifestazioni temporalesche che abbiamo avuto anche recentemente negli ultimi due mesi succede oggi che c'è un allentamento diciamo del maltempo allentamento temporaneo anche se vediamo che le nuvole comunque insistono ancora sul nostro territorio vediamo che il sole stenta davvero ad uscire però nel corso della giornata dovremmo assistere davvero ad un miglioramento che addirittura nel pomeriggio dovrebbe diventare un miglioramento che sembrerebbe quasi definitivo non lo sarà per nulla perché invece una nuova fase un po' più perturbata arriverà subito a ridosso tra oggi e domani e quindi interesserà nuovamente il nostro territorio della pioggia che nella seconda parte di domani potrebbe essere anche piuttosto intensa ma sugli entroterra sulla costa pioverà senza eccessi le temperature rimarranno più o meno come stiamo sentendo quindi nuovamente abbastanza miti e tutto sommato di un paio di punti anche superiori alla media stagionale del periodo quindi non si va verso l'inverno proprio secco ecco come magari sarebbe potevamo pensare tra domenica e lunedì quando le temperature sono scese un pochino di più per quanto riguarda poi il fine settimana molto probabilmente avremo un tempo un po' più stabile ma questo naturalmente ne parleremo meglio nei prossimi giorni e comunque la previsione completa e analitica del meteo la daremo come sempre in chiusura di trasmissione adesso andiamo appunto sull'argomento principale della giornata i missili sulla Polonia se ci sono degli aggiornamenti chiaramente ve li diamo in tempo reale perché questa mattina comunque è stato emesso un comunicato da parte dei paesi della Nato un comunicato attendista diciamo così c'è un comunicato che dice condanniamo appunto tutti gli attacchi missilistici della Russia all'Ucraina ma al momento non addossiamo alla Russia la responsabilità di questa ennesima pagina della guerra missili sulla Polonia colpi alla frontiera due morti accusa Mosca che nega in precedenza dell'Ensk che aveva parlato aveva aperto un po' al dialogo dettando dieci condizioni la Russia ha risposto bombardando le città ucraine gli Stati Uniti pronti a difendere il territorio della Nato l'attacco russo più massiccio obiettivi civili 7 milioni di case senza elettricità Milone vede Biden a Bali proseguono proseguire il sostegno a Kiev e l'analisi dell'analista Paniccia la pioggia di razzi una risposta del Cremlino alle mosse del G20 cambiando argomento la linea dura contro le ONG cioè le organizzazioni non governative le loro navi che vanno a soccorrere i migranti possibile confisca delle navi oggi Piantedosi va alle camere incertezza sul nuovo decreto flussi ricordiamo che Piantedosi è il ministro degli interni femminicidi nasce la casa degli orfani sono 2000 e assistenza interventi a Torino appunto per questa nuova terribile realtà appunto di coloro che rimangono senza genitori a causa proprio di un omicidio di un genitore contro l'altro soprattutto di uomini contro le donne che questo è il caso più normale armi e propaganda cellula di neonazisti 4 arresti a Napoli poi la professoressa prima al mondo premiata la mia ora di religione a scuola extra profitti la tassa al 33% e tregua fiscale i progetti del governo e poi andiamo avanti via da questo folle confine l'editoriale di Marco Tarquinio le armi tradiscono tutte e sempre come dire questi incidenti possono succedere se non si iniziano le guerre non succedono giustamente adesso andiamo invece sulla prima pagina del secolo XIX che addirittura ci mostra un'immagine della distruzione di questi missili missili sulla Polonia allerta della Nato due vittime e la caduta di un razzo russo Mosca provocazione non è il nostro poi la scoperta deviato dalla contraera ucraina questa è un'ipotesi più acclarata più diciamo anche sperata soprattutto dalla Nato perché se no dovrebbe muovere guerra contro la Russia perché non ci sono altre parole no la pace è finita in Europa inizia un'altra storia l'analisi di Lucio Caraccio signor Lucio Caraccio la pace era già finita da un po' di mesi ma magari non se n'era accorto intesa Biden e Meloni sulle sfide globali per energia e ambiente summit del G20 e poi ancora Bernabè costi impennati ex Silva serve un miliardo intervista con il presidente di accederia d'Italia subito l'assemblea parla appunto il presidente Bernabè che adesso è a capo di questa accederia Italia che è un po' un ibrido sappiamo c'è una componente pubblica una privata del Lancelot Mittal che ha fatto retromarcia insomma un po' di caos all'interno di questa azienda che era una volta l'ILVA e ancora prima l'Italcider evasione fiscale così il governo prepara il colpo di spugna secondo appunto altri si chiama pace fiscale ma vabbè ognuno la chiama come vuole a Ponte Junior Genova è la nostra casa MSC investirà ancora il presidente del gruppo e poi il caso Bucci il sindaco che è stato chiamato da alcune forze di opposizione chiaramente a rispondere di possibile inelegibilità cioè non poteva candidarsi al sindaco di Genova essendo già il commissario straordinario per la ricostruzione del ponte ma il giudizio è stato sospeso la procura invece ha bocciato ricorso la procura che dovrebbe essere l'accusa chiaramente a Bucci in realtà ha bocciato ricorso quindi quasi sicuramente si andrà verso una sentenza non di assoluzione perché non c'è un caso comunque di continuazione di quello che c'è in questo momento cioè il fatto che il sindaco rimanga Bucci però è ancora presto per dirlo perché chiaramente il tribunale deve ancora parlare in aula ieri appunto il sindaco che ha detto i miei due ruoli sono stati un vantaggio e non uno svantaggio per Genova poi ancora dalla prima pagina del secolo Sam Dori i tifosi contro Ferrero l'Anna e il resto non mi ha scelto lui vendita c'è stato un messaggio di Altani questo personaggio che vorrebbe rilevare la Sampdoria almeno sono mesi e mesi che se ne parla non è ancora successo niente andiamo avanti lui dice poi sapete che in questi casi bisogna capire sempre qual è la verità qual è insomma un po' anche di verità così diciamo data ai tifosi per farli stare tranquilli Binotto voci sull'addio ma la Ferrari riconferma dopo le critiche per gli errori e poi c'è il dialogo Pennone Ed Can vita e arte in 474 risposte in un libro intervista allo scultore e adesso andiamo anche a parlare degli orientamenti orientamenti 30.000 ragazzi in cerca del futuro vediamo appunto sempre delle pagine del secolo XIX in 30.000 subito hanno affollato i saloni di orientamenti di questo grande evento che invita i ragazzi un po' a visitare il loro futuro il loro stesso futuro a vedere che cosa possono fare nel mondo e la cosa bella nel mondo nel mondo del lavoro e la cosa bella che a fare da tutor da diciamo così Virgili di questo salone sono gli stessi ragazzi un po' più grandi che magari hanno già trovato posto nel lavoro oppure nel proseguimento degli studi universitari impegno contro mafia e fascismo Genova Salone Alvia con la lezione di Segre Falcone Grasso Totti coltivate le vostre passioni e naturalmente questo salone andrà avanti saranno moltissimi gli studenti di tutto il territorio regionale che andranno a visitarlo e a proposito di scuole ieri invece Chiavari ha inaugurato un nuovo laboratorio informatico all'istituto tecnico professionale che adesso sappiamo è un tutt'uno con il caboto gli studenti denunciano però disagi per la sede di via Castagnola a Chiavari vediamo in questa foto appunto il nuovo laboratorio di informatica dell'istituto tecnico ma adesso lo andiamo a visitare anche grazie alle nostre telecamere nel servizio realizzato ieri dalla nostra redazione 30 nuovi pc di ultima generazione una lavagna multimediale interattiva uno spazio dove personalizzare l'insegnamento di informatica in base ai corsi seguiti per l'istituto tecnico professionale di Chiavari è attiva la nuova aula digitale allestita grazie alla donazione della fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio che conferma e rinnova un sostegno iniziato addirittura negli anni 60 le prime due macchine forse da scrivere sono state date a questo istituto nel 1960 sono strumenti per crescere non solo nella tecnica ma anche nella mente e nell'apertura mentale verso questi problemi che sono sempre più grandi il futuro della scuola è quello comunque di prevedere sempre di più attività al computer perché il computer consente una personalizzazione dei percorsi e quindi di poter proporre a ciascuno studente attività più rispondenti a quelle che sono le sue potenzialità per l'istituto tecnico professionale nato dall'accorpamento tra il caboto e il memoria dei morti per la patria il nuovo laboratorio rappresenta una tappa nel cammino di fusione che si concluderà con l'individuazione del nome i passaggi formali sono la costituzione del consiglio di istituto che avverrà breve nel mese di novembre e dopodiché il nuovo consiglio di istituto deciderà il nome del nuovo istituto alla cerimonia di inaugurazione della nuova dotazione informatica era presente anche l'assessore alla scuola del comune di Chiavari che ha confermato l'intenzione dell'amministrazione di procedere con la realizzazione del nuovo polo scolastico incolmata in modo da dare quegli spazi di cui oggi le scuole del comprensorio hanno bisogno crediamo che dare alla città uno spazio e un nuovo istituto un nuovo polo sia sicuramente una visione del futuro migliore che permetterà anche di attrarre risorse anche da altri istituti e permetterà anche un domani ricerca e sviluppo in campo universitario Allora rimaniamo a Chiavari rimaniamo sulla stessa pagina del secolo XIX sicurezza sul del Rupinaro un collaboratore in più per la variante al PUC sento ancora il monitor della regia grazie Chiavari si assegna a un architetto l'incarico di affiancare gli uffici comunali nella revisione è appunto l'architetto Gianluca Solari che supporterà il comune di Chiavari nell'aggiornamento del PUC e poi a proposito di Chiavari Chiavari accende il Natale green nel segno dell'eco sostenibilità tutti naturalmente vogliamo un Natale green ricordate che l'albero ecologico è un albero che è fatto di plastica quindi bisogna sempre delle parole così però a parte questo Ratto dice non rinunciamo a luci musica animazione e veglioni ma siamo attenti ai temi ambientali questo lo siamo tutti il calendario degli appuntamenti dicembre con un capodanno con veglione in piazza Mazzini e nell'attenso struttura del porto tra i vari protagonisti di questo periodo ci sono anche i beatbox che vediamo in questa foto che sono ragazzi molto bravi che fanno appunto la band tributo ai famosi Beatles poi andiamo al rapinatore che va in manette aggrediti carabinieri a Sestri Levante una tentata rapina arrestato un ragazzo di 25 anni il giovane originale di Palermo già noto alle forze dell'ordine appunto è finito nei guai per aver cercato di impossessarsi dell'incasso di un bar di Sestri Levante l'uomo però appunto si è anche diciamo così rivoltato contro i carabinieri del servizio radiomobile e quindi insomma la sua situazione è anche più grave ancora e andiamo ad altre notizie sempre dal secolo XIX di oggi Sestri Levante più verde pedonale lungomare di Riva completa il restyling di tutta la frazione il progetto finanziato con i fondi del PNRR cambia volto al paese la sindaca più spazi per i bimbi e per la comunità vediamo appunto in questa foto dei rendering di come dovrà venire poi il nuovo frontemare di Riva che è già cambiato negli ultimi anni ma che continuerà chiaramente almeno verrà completato quantomeno il costo dell'intervento si aggira su 3 milioni 800 mila euro e poi si parla ancora della nuova viabilità verso le due grandi aziende di Riva cioè Fincantieri e Arinox parte la corsa di finanziamento perché chiaramente anche qua ci vogliono 5 milioni 300 mila euro quindi il comune da solo non ce la fa e tenta di trovare dei finanziamenti anche perché questa sarebbe una viabilità nuova che potrebbe dare ulteriore impulso alle due aziende cioè da una parte Fincantieri e da un'altra che sono aziende tra l'altro in buonissima salute che continuano anche il loro sviluppo e poi Open Day al Natta di Ambrosis si comincia sabato pomeriggio a Sestri Levante e poi a Sestri Levante Ida Peonia festeggia i suoi 100 anni grande festa a Villa appunto a Villa Lotto di Sestri Levante circondata dalla sua famiglia festeggiato i 100 anni la signora Ida Peonia e poi andiamo ancora avanti e ancora dal secolo XIX a Rapallo camminamento allagato a Rapallo torna la protesta Rete Ferroviaria Nazionale appunto dice la manutenzione di cui il percorso spetta al Comune l'Asinio interverremo e poi verificheremo la Convenzione perché questo camminamento appunto che va dalla stazione ferroviaria a Via Mameli praticamente dove c'è il sottopasso della ferrovia quindi a metà di Via Mameli da lì si può salire le scalette e percorrere questo che è un percorso pedonale proprio a fianco alla rete ferroviaria cioè quelle questa ringhiera poi a fianco proprio i binari quindi il Comune di Rapallo pensava che questo camminamento fosse diciamo così di manutenzione anche di competenza di rete ferroviaria italiana cioè Ferroviario dello Stato e invece Ferroviario dello Stato dice no qua spetta al Comune e appunto Lasinio dice interverremo poi guarderemo la convenzione se davvero è così e poi un lutto che ha colpito Moneglia ampi addio allo storico segretario Pietro Dalfino che vediamo appunto in questa foto oggi alle 15 al cimitero si potrà dare l'ultimo saluto una commemorazione civile e poi ancora seta gli scarti di lavorazione vengono rimessi in circolo zoagli riduzione riuso e riciclo e gli obiettivi del programma UE Life più sabato plus come si dice sabato workshop in piazza domenica scambio di abiti tra appunto dei ragazzi 0-18 anni e poi ancora la giornata contro la violenza sulle donne Beatrice Serafino sarà in scena a Portofino nel teatrino di Portofino con la sua papessa appunto all'interno di queste giornate che ricordano molto appunto la lotta che bisogna fare alla violenza sulla donna ricordiamo che la giornata mondiale è il 25 di novembre e appunto alle 21 c'è questa pièce al teatrino di Portofino progetto personale che ritengo attuale nel panorama artistico e culturale allora sempre dal secolo XIX al timone di Filla da 40 anni festa sorpresa per Mauro Pietronave che vediamo in questa foto insieme al presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi ma lo festeggiano anche altri importanti personaggi di Chiavari da Federico Messuti a Francesco Bruzzo della società economica e tanti altri altre persone che hanno sempre anche utilizzato il defilla per incontri per presentazioni conferenze stampa perché non è soltanto un semplice bar o una semplice pasticceria ma è un luogo di incontro storico della città in tanti per gli auguri al Patron e dello storico Gran Caffè non me l'aspettavo sono felicissimo andiamo avanti dice appunto Pietro Nave e poi ancora le suore della presentazione festeggiano i 125 anni di attività a Cicagna operative in 7 paesi del mondo le religiose hanno fondato conventi e delegazioni anche in Val Fontana Buona oggi guidano la scuola dell'infanzia appunto a Cicagna ma qua vediamo appunto una foto d'epoca una foto di molti anni fa adesso i bambini di questa foto saranno non dico nonni ma poco ci manca perché è una foto davvero molto molto antica e beh andiamo avanti perché di questo poi parleremo anche nei prossimi giorni conferimento dei rifiuti a recco raffica di multe sanzioni per l'utilizzo dei vecchi sacchetti neri ora vietati molti cittadini sorprese dalle telecamere in orari sbagliati perché chiaramente c'è la raccolta porta a porta bisogna mettere i sacchetti giusti nel posto giusto all'ora giusta nuovi problemi per la raccolta differenziata di recco e appunto la lotta un po' alle diciamo così consuetudini che però sono attualmente non più appunto sopportabili aiuto a famiglie e imprese nella manovra di fine anno il consiglio comunale di recco vara provvedimenti per tari e bollette sostegni per trasporto all'unidisabili e inserimento minori nelle strutture qua vediamo in questa foto il sindaco di recco Carlo Gandolfo rimaniamo nel il Golfo Paradiso sempre dal secolo XIX Golfo Paradiso e turismo Hotel Green nell'entroterra un vero valore aggiunto i nuovi pannelli fotovoltaici sono stati appunto installati all'albergo Caprile di Uscio i titolari ospiti attenti all'ecosostenibilità ci sposiamo a Camogli Cisternino presenta il suo libro al teatro sociale Andrea Cisternino che è stato ospite d'onore vincitore del premio Bontà la 61esima edizione del premio internazionale fedeltà del cane ritorna a Camogli il 3 dicembre alle 16.30 nel ridotto per presentare il suo libro ma parliamo anche di spesa perché la spesa si fa sempre più cara ovunque anche nei discount cioè anche nei luoghi dove la merce dovrebbe costare di meno e costa di meno però essendo aumentata ovunque aumenta anche nei discount però è chiaro che la gente maggiormente frequenta questi luoghi piuttosto che diciamo negozi o altre altre attività che hanno diciamo qualche tariffa più cara come cambia la spesa preferenza per i discount il superfluo è azzerato soggio e grosse clienti in aumento l'obiettivo comune ridurre il costo degli acquisti basco ritorno ai livelli pre-pandemia ma con grande attenzione a evitare gli sprechi in tutti questi due esempi però discount non so cosa c'entra perché discount è un po' un'altra cosa ma è lo stesso anche i cop registra visite più frequenti alla rete territoriale dei supermercati carne, pesce, salumi e prodotti caseari risentono di più di inflazione e caro energia chiaramente anche i mercati rionali però appunto hanno dei prezzi che sono superiori a quelli che vedevamo negli scorsi anni i venditori riferiscono di notare da parte dei clienti più attenzione al prezzo e un orientamento ad acquistare soltanto l'essenziale nei negozi al dettaglio si riscontra uno spostamento dell'interesse verso prodotti dal prezzo più basso e i discount registrano un incremento poi i discount è un modo di dire però dovremmo parlare di supermercati i discount sono quelli proprio senza le marche importanti che hanno prezzi decisamente più bassi ma che in questo momento comunque stanno aumentando anche loro e poi c'è ancora diciamo così una crociata dei commercianti di Rapallo che non vogliono un nuovo supermercato che si è paventato sarà costruito appunto vicino allo stadio Macera no a un nuovo supermercato i commercianti restano contrari ieri l'incontro con il comune per gli orari più lunghi i commercianti si dimostrano disponibili ma adesso vedo disponibile prontissima dalla redazione Emanuela Castello quindi do la linea a lei buongiorno Emanuela buongiorno Marco si intervengo adesso perché proprio su questo tema di cui stavi parlando sia l'incontro che c'è stato a Rapallo tra l'amministrazione comunale e i commercianti è arrivata la nota ufficiale appunto del comune di Rapallo che precisa alcune questioni innanzitutto un dato di interesse è il fatto che a questo incontro abbiamo visto anche appunto sul secolo XIX che si trattava di un appuntamento piuttosto affollato hanno partecipato le sigle di rappresentanza di tutti i commercianti rapallesi quindi Ascom Civ Cor e Confesercenti quindi già questo è un dato che ci dice la rilevanza di questo appuntamento i temi sono stati tre innanzitutto le difficoltà che ovviamente anche il tessuto commerciale di una città che è la sesta della Liguria per numero di abitanti come Rapallo risente a causa del rincaro dei costi delle materie prime e soprattutto del caro bollette e su questo l'amministrazione comunale si è detta disponibile a studiare ulteriori misure anche a livello di tassazione locale appunto per venire incontro alle famiglie al tessuto commerciale cittadino poi c'è il grosso tema appunto dell'evoluzione della città che comprende anche l'apertura di un nuovo grande punto vendita nel popoloso quartiere di Sant'Anna su questo l'amministrazione comunale ha annunciato che Roberto Ravazzoni che è un docente di economia predisporrà prossimamente uno studio che riguarda le vendite al dettaglio e l'evoluzione urbana di Rapallo da un'analisi preliminare che è già stata comunicata all'istituzione quindi al comune di Rapallo emerge che appunto a livello empirico quindi senza un'analisi ancora approfondita che sarà studiata nei prossimi mesi sebbene Rapallo abbia un tessuto commerciale piuttosto vivace e senz'altro un reddito medio pro capite piuttosto elevato occorre però che il tessuto commerciale si adegui ulteriormente all'evoluzione della domanda quindi questo è già un primo dato che emerge da un'analisi preliminare del tessuto commerciale cittadino vedremo poi che cosa emergerà poi ovviamente c'è il tema appunto del supermercato che aprirà nella zona di Sant'Anna scelta che a quanto si apprende appunto da questa nota l'amministrazione comunale continua a difendere parlando di un tangibile indotto positivo sull'economia del territorio e che riguarda la riqualificazione del quartiere di Sant'Anna che dovrà offrirà alla cittadinanza più parcheggi migliori servizi strutture di volontariato ricreative e sportive all'avanguardia su questo e su altri temi ovviamente torneremo più tardi nel corso dei nostri appuntamenti con il telegiornale a partire dalle 12.45 con la prima edizione di oggi di Tigullio oggi appunto dalla redazione tutto lineate Marco grazie grazie Emanuela e allora parlando sempre di consumi e di anche abitudini ormai dei consumatori non si rinuncia più alle parrucchieri anzi ai parrucchieri e agli estetiste e lo diciamo anche per gli uomini clientela più attenta ma non c'è stata la fuga perché dall'estetista ci va anche l'uomo perché no alla cura della persona non si rinuncia si cerca di spendere meno rispetto al passato notiamo atteggiamenti più selettivi meno acquisti ma di qualità dal barbiere si va lo stesso ma aumentano l'intervallo tra una volta e l'altra tra una seduta e l'altra quindi si tengono i capelli un po' più lunghi un po' più magari magari con un po' di gel per mascherare ma si aspetta magari qualche settimana in più tra una volta e l'altra e adesso noi andiamo invece a vedere quali sono gli appuntamenti di oggi nella nostra consueta agenda appuntamenti in agenda per mercoledì 16 novembre è aperto al pubblico il museo di Ocesano di Chiavari le sale si possono visitare dalle 10 alle 12 nei locali di piazza Nostra Signora dell'Orto proseguono i corsi di cultura di Chiavari alle 16 e 15 nella sala livellare di Via del Pino Gianluca Lizza terrà una lezione di arte ligure del 900 su Rubaldo Merello il Van Gogh di Portofino nell'ambito del 18esimo corso di cultura genovese alle 16 e 30 nell'auditorium di Largo Pessagno a Chiavari Barbara Bernabopter ha una conferenza su una famiglia chiavarese del 600 i Costa Aguta al centro lo stemma della famiglia in un documento d'epoca alle 17 nella sala rossa del comune di Savona si tiene la conferenza Domenico Parodi tra Genova e Savona gli effimeri dal porto di Genova alla Madonna della Misericordia iniziativa promossa dall'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale in collaborazione con l'associazione Palazzo Lomellino e il patrocinio del comune Savonese la conferenza si collega alla mostra Domenico Parodi il libro La parola ai poveri storia di un'amicizia cristiana di Roberto Zuccolini sarà presentato alle 17 e 30 dall'autore della sala quadrivium di Genova con lui interveranno Vittorio Coletti Don Matteo Zoppi e Graziella Bonansea Che dirvi le nuvole continuano a tenerci compagnia in questa mattinata però dobbiamo avere fede nelle previsioni meteo della Limet che ci dicono che invece piano piano le nuvole dovranno fare spazio al cielo sereno nel corso del pomeriggio avremo davvero tanto sole e zero nuvole questo è una speranza oltre che una previsione naturalmente per quanto riguarda quindi non pioverà più ma addirittura diventerà una bellissima giornata per quanto riguarda i venti settentrionali sul settore centrale in mare aperto rinforzi nelle zone soggette del Genovese con variabili 20 altrove mare molto mosso a largo mosso nel resto del bacino Ligure moto ondoso comunque in diminuzione nel corso della giornata le temperature grazie al soleggiamento saranno in ripresa le massime dovranno nuovamente andare più in alto rispetto a quelle di ieri e quindi raggiungere i 18 gradi per domani giovedì 17 novembre invece c'è un'inversione di tendenza quindi un nuovo aumento della nuvolosità un po' su tutta la regione durante la giornata e poi nella seconda parte cioè nel pomeriggio probabili piovaschi a Levante con brevi scrosci specialmente nelle zone interne 20 domani meridionali moderati con rinforzi a largo mare mosso nel settore di occidente di Ponente molto mosso altrove le temperature sono stazionarie ringrazio Luigi Canu che ha curato la regia la parte tecnica in appunto in console ringrazio la nostra Emanuele Castello che abbiamo sentito insieme e poi ringrazio anche voi che ci avete seguito anzi soprattutto voi che ci avete seguito che vorrete seguire anche i prossimi aggiornamenti con l'informazione e come diceva Emanuele alle 12.45 il TG Ticuglio oggi e noi ci rivediamo domattina a 7.30 a 8.10 con il TG Rassegna Stampa da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata a tutti grazie a tutti